e bella raga bentornati sul mio canale oggi ragazzi state qui per assistere ad un video devo dire molto divertente ovvero ragazzi di scherzi farò una serie di scherzi ai miei familiari ai miei amici quindi dato che sarei comodi sul divano mettere un bel like e scrivetevi al canale e direi subito di iniziare ok raga il primo scherzo di quest'oggi lo faremo a mia madre perciò andiamo ok ragazzi aspettiamo mamma uno per l'altra due per lo show tre per il balletto del matador le ginocchia di ronaldo ma sei nato? ah ma e dai devo cantare una canzoncina su per la mia madre ok ragazzi e con lo scherzo di questo super video a mia nonna ragazzi 3, 2, 1, go pronto? buonasera signora Loretta volevo informarla che è confermato l'appuntamento dallo Torino all'ospedale Regina Apostolorum per il giorno 10 maggio alle 8 e mezzo a breve un'operatrice le risponderà buonasera signora quindi è confermato l'appuntamento? signora signora si ma a nome di Lombardi qui c'è scritto no signora mi sente? pronto? signora? ma dove? a Regina Apostolorum? si signora no ma no io non c'è nessun appuntamento per quel giorno eh signora scusi allora chi è venuto a firmarlo? non mi prenda in giro per favore eh? ma no non mi prenda in giro lei eh guardi che ho qui sto lavorando e non vorrei perdere tempo eh nemmeno io oppure io e allora chi l'ha scritto? di Anzio 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 il 24 luglio no eh sbagliato io non ho fatto nessuna prenotazione e scusi allora perché c'è il suo nome? lo vorrei tanto sapere scusi eh ma me lo dica lei perché scusi eh io non lo so io mi sono mi sono stufata di questi scherzetti sinceramente eh ok raga lo so che non si vede un'abbiata no ma perché io? raga raga ragazzi qui c'è Riccardo Papino che vuole parlare con voi ah un pachino nel culo Papino dai sto insieme a Brigu e a Papino eccolo mostralo al porco Papino eccolo qui buonasera stiamo facendo uno scherzo al disgraziano a Mattia Blagonà siamo al Gallo d'Oro qui ad Aprilia stiamo al buio stiamo aspettando che finiscono di pisciare e quindi siamo dall'altra parte del ristorante allora io andrei di andare verso l'invecchio andiamo raga noi siamo qui ma se arrivano da di là siamo inculati da là no fido ma poi da qua col buio non li vediamo no perché trova la posizione migliore ci conviene cambiare andiamo a mezzare Mattia ragazzi ma dove cazzo siamo finiti stiamo arrivando ecco vai più là vai più là sono proprio così stiamo andando di là verso il prato ma non vedo nulla mica ci vedono faccelo a lui una matata ragazzi ecco qui il vostro super tombo oh my god ragazzi sono andati dall'altra parte dove cazzo sono andati? sei disgrazioni chiamali chiamali raga ma dove state? ma dove siete? hanno detto che stavate dietro voi non c'è stato? ma noi vi stiamo cercando a far giro ma dove state i disgraziani? ma come state a far giro? basta va bene va bene allora voto state voi siamo tutti cioè in realtà siamo davanti abbiamo fatto il giro abbiamo fatto no vabbè facciamone del contrario al contrario facciamo siamo all'entrata la fantastica qua qua rega 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 ecco sumero saluta bello scherzo su youtube no grazie ho detto che stavano a fare il video che trova per la sua dignità no per l'altro di quello mi da bugato perché sei amore mi da cirino lo sai che io ti faccio? non me cazzo perché se siete giunti fino a questo punto del video vi ringrazio e ora arriverà l'ultimo scherzo ragazzi farò uno scherzo telefonico a un programma in tv che nel sativo canale 150 fanno sempre delle vendite su scarpe, gioiellini perciò ora vediamo e chiamiamo 5 cellulari nella tuta gold baby non richiamerò un po' di tempo un giorno mi lascia un numero da richiamare nulla è pensato mai che inizierà storia tu sei finito cazzo non chiamano i carabinieri ma sei serio?